Molto bella, particolare, ha dei bei colori, veramente particolari, un gran bel fessuto. Il mio sogno nel cassetto è diventare DJ. E adesso... Fammi girare, fammi girare! Ecco, fammi girare. Se incontri Matteo nel posto, quello è il posto giusto. Questa storia qua non riesco a definirla ancora bene. Con i miei fratelli di solito si va per discoteche. Grazie a tutti.